Approvato lo schema di decreto del Ministero dell'Istruzione con il riparto delle risorse per l'edilizia scolastica. Si tratta di 321 milioni destinati al finanziamento di interventi effettuati da province e città metropolitane. Tra i progetti finanziati c'è la manutenzione straordinaria di sei scuole lecchesi, stanziati 2 milioni e 300 mila euro per lavori all'Agnesi, al Parini, al Viganò, al Grassi, al Fiocchi e al Bachelet, ad annunciarlo l'onorevole del Partito Democratico, Veronica Tentori. Avere scuole sicure è stata una priorità sin dal primo giorno per questo Parlamento e l'impegno continua, spiega la deputata. Nel dettaglio per l'Istituto Agnesi di Merate sono stati stanziati 165 mila euro, per il Parini di Lecco un milione di euro, per il Viganò di Merate 200 mila euro, per il Grassi di Lecco 435 mila euro, per il Fiocchi di Lecco 125 mila euro, per il Bachelet di Oggiono 416 mila euro. Prevista una serie di interventi di consolidamento, in primis per evitare il rischio di sfondellamento dei soffitti, ma, come nel caso del Parini, anche per risolvere l'annoso problema delle infiltrazioni d'acqua. I lavori più urgenti riguardano il Grassi, l'Agnesi e il Viganò. Difficilmente gli interventi potranno essere conclusi prima dell'inizio dell'anno scolastico. Gli unici lavori al momento appaltati sono quelli all'Iceo Agnesi. Secondo una stima di Villa Locatelli servirebbero oltre 56 milioni di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti gli istituti lecchesi. Riverniciature, sostituzioni dei serramenti, interventi agli impianti elettrici e di riscaldamento, adeguamenti antisismici e antincendio. L'ente provinciale lecchese, tra i primi in Italia, ha elaborato un prospetto che racchiude lavori e costi necessari, nella speranza di ottenere i finanziamenti dalla Banca Europea di investimento.